a tutti voi la più cordiale buonasera e ben ritrovati per questa edizione provinciale del tg noi che apriamo con la cronaca e con quanto è successo andiamo a monti di villa nel comune di bagni di lucca siamo a poca distanza dal borgo di monti di villa nel comune di bagni di lucca qui stamani verso le 8 un incidente mortale un uomo del 1948 è morto forse a causa di malore perdendo poi il controllo dell'auto con la quale era uscito da poco prima da casa l'allarme al 118 verso le 8 del mattino sul posto gli immediati soccorsi portati dalla croce rossa di bagni di lucca e dalla mike con medico a bordo giunta dalla misericordia di borgo a mozzano ma tutti gli interventi sono stati vani vista la gravità della situazione era stato allertato anche pegaso ma la missione è stata annullata una volta che il medico ha constatato il decesso del conducente del mezzo l'uomo si chiamava achille benedetti aveva 77 anni ed era di lucca a monti di villa era però di casa qui aveva un'abitazione e altre proprietà doveva sbrigare alcune commissioni ed era da poco uscito dalla sua casa poco prima del paese quando è avvenuto il fatto si era immesso da pochi metri sulla strada comunale dalla strada che invece conduce alla sua casa secondo le prime ricostruzioni forse a causa di un malore ha perso il controllo del mezzo che è andato a sbattere contro una pianta al lato della strada sul luogo dell'incidente anche per stabilire la dinamica dei fatti i carabinieri successivamente anche la polizia municipale di bagni di lucca benedetti molto conosciuto nella comunità di monti di villa lascia due figlie anche a lucca questa mattina è stata celebrata la festa dell'arma dei carabinieri è stata piazza napoleone ad ospitare a lucca la cerimonia per i 210 anni della fondazione dell'arma dei carabinieri presenti tutte le più alte cariche lucchesi e provinciali una rappresentanza delle scuole e tanti cittadini la mattinata iniziata con l'ingresso in piazza dei carabinieri e dei labari poi la lettura del messaggio del presidente della repubblica sergio mattarella e quello del comandante provinciale dei carabinieri colonnello arturo sessa che ha ringraziato i militari e le loro famiglie per l'impegno e sacrificio quotidiano successivamente c'è stata la consegna delle ricompense che sono andate al capitano colella per un'operazione condotta in piemonte e al tenente colonnello cassarà al maresciallo capo pier simoni e ai vice brigadieri sini ed elies che hanno condotto la complessa indagine sulla piana di lucca che ha portato al sequestro di 120 chili di droga all'arresto di due persone e alla denuncia di altre cinque al prefetto giusi scaduto è stata consegnata la tessera di socio onorario dei carabinieri in congedo e il dirigente dell'ufficio scolastico e l'area baroni ha consegnato gli attestati di merito concessi dal comandante provinciale dei carabinieri a tre studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che nel corso dell'anno scolastico si sono distinti per generosità impegno e alto senso civico infine la cerimonia si è conclusa con l'applauditissima esibizione del coro arcobaleno che ha eseguito l'inno di mameli e nell'ambito della cerimonia sentiamo anche le dichiarazioni del comandante provinciale arturo sessa l'attività degli ultimi 12 mesi è stata particolarmente impegnativa per tutti i militari del comando provinciale voglio segnalare i 35 carabinieri feriti durante il servizio proprio per assicurare il controllo del territorio 35 militari che hanno riportato lesioni e diversi giorni di prognosi e a loro come ho detto nel mio discorso la mia vicinanza a loro e alle loro famiglie e poi naturalmente voglio ribadire che la presenza dell'arma costituisce comunque un riferimento per tutta la cittadinanza in ogni piccolo comune a piccola frazione il maresciallo e i suoi militari accolgono ascoltano la loro capacità di ascoltare è quella su cui oppongo sempre l'accento l'importanza di essere vicino a tutti soprattutto le persone più fragili i carabinieri a lucca sono presenti dal 1860 nella stessa caserma di oggi qui a cortile degli svizzeri e da sempre noi siamo tra la gente con la gente ed ora il restyling del belvedere di torre del lago l'annuncio dell'inaugurazione il prossimo 21 giugno del belvedere di torre del lago puccini ha fatto tirare un sospiro di sollievo a operatori commerciali e turistici e in genere a tutti i soggetti coinvolti nelle celebrazioni del centenario della morte del maestro il piazzale quasi terminato per ospitare la partenza della tappa del giro d'italia è stato nuovamente oggetto di un intervento di gaia ampiamente annunciato nei giorni precedenti all'evento ciclistico ma oggi a distanza di 15 giorni dal taglio del nastro definitivo l'accesso a villa puccini e al belvedere è questo con i turisti costretti ad attraversare l'area di cantiere rigorosamente a piedi dato che il passaggio delle biciclette è impossibile facendo slalom tra pozzetti scavi aperti e mezzi meccanici che spostano il materiale per terminare i lavori una situazione che al di là della brutta immagine presentata ai turisti che si recano alla villa museo rappresenta un innegabile potenziale pericolo per chi attraversa il percorso nel cantiere per quanto riguarda i lavori complementari al restyling del belvedere l'amministrazione comunale e la fondazione festival pucciniano hanno annunciato importanti interventi per quanto riguarda il recupero di villa caproni l'immobile acquistato dalla fondazione nel 2005 è destinato a diventare foresteria per accoglienza artisti e docenti della puccini festival academy il primo lotto strutturale prevede lavori in corso di assegnazione per 1 milione e 200 mila euro il 20 maggio scorso infatti è stato pubblicato il disciplinare di gara relativo alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori è tutto per la prima parte del tg noi adesso la linea va alla regia per una serie di utili suggerimenti commerciali